Musica Lo scorso Natale la 13enne Elena Velotto aveva commosso tutti chiedendo come regalo un nuovo reparto per i piccoli malati di tumore e leucemia del Salesi di Ancona. La sua lettera, indirizzata al Ministro della Salute Lorenzin, aveva dato voce al disagio dei bambini, delle loro famiglie e dei medici costretti a combattere, oltre alla malattia, anche gli spazi ristretti e fermi agli anni 90 dell'ospedale. Oggi quel desiderio di Elena è stato esaudito con l'inaugurazione dei rinnovati locali di oncoematologia pediatrica. Tu l'anno scorso avevi scritto una lettera speciale a Babbo Natale e si è avverato il tuo sogno? Sì, in tutti i sensi. Che cosa avevi chiesto? Ho chiesto un reparto nuovo perché sinceramente qui i spazi erano ristretti e a quanto pare è riuscito questo intento. E oggi è proprio una bella giornata? Sì. La giornata è stata una vera e propria festa, un'occasione vissuta e condivisa da tutte le componenti che a vario titolo e competenza hanno contribuito a questo significativo passo in avanti di una struttura che rimette in pista l'ospedale pediatrico specializzato dell'Adriatico. In sostanza si tratta di quasi 700 metri quadri a misura di bambino, tre nuove stanze che portano 12 posti letto del reparto, un'operazione dal costo di un milione di euro. Gli spazi sono stati ottenuti dal trasferimento nell'ospedale regionale di Torrette del reparto di fibrosi cistica. Nella zona dei Genze, alla quale sono riservati tutti i 340 metri quadri fino a ieri condivisi con il Day Hospital, trovano posto anche una stanza dedicata alle lezioni scolastiche dei piccoli ricoverati, una cucina a disposizione delle famiglie e dei pazienti e una sala dedicata alle procedure in sedazione con i soffitti decorati. Alle pareti i pannelli con i giochi interattivi per alleviare il ricovero e le fiabe disegnate lungo i corridoi. All'incontro di presentazione c'erano tutti, il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, il presidente della regione e assessore alla sanità Luca Ceriscioli, l'arcivescovo di Ancona Osimo, cardinale Edoardo Menichelli, il primario Paolo Pierani, il dg dell'azienda ospedale riuniti Michele Caporossi, il presidente della commissione regionale sanità Fabrizio Volpini, il rettore dell'università politecnica delle Marche Sauro Longhi, l'assessore al welfare Emma Capogrossi e la direttrice della fondazione Salesi Annarita Settimi Duca. Questo è il segnale tangibile che l'aria è cambiata davvero. Dal 2014 non veniva speso un euro di investimenti su questo edificio, ha commentato il sindaco Mancinelli. Soddisfazione anche dal presidente Ceriscioli, che ha parlato del nuovo reparto come di un regalo alla parte di comunità che più ne ha bisogno. Tra i più emozionati, il primario di onco-ematologia Paolo Pierani. E' un'emozione grande, io sono 34 anni che faccio questo lavoro e questo è un risultato per me veramente eccezionale, perché abbiamo trovato un'amministrazione che ha saputo cogliere e soprattutto lo ha saputo cogliere velocemente tutte quelle che erano le esigenze dei nostri bambini, quindi è veramente un risultato eccezionale. Un reparto che solo dal 2011 al 2015 ha visto 11.000 accessi tra dei hospital e ambulatori, per circa 1.400 ricoveri. Purtroppo l'attività è molto elevata, però quello che noi possiamo garantire è di offrire una qualità di cure elevata a tutti i pazienti che ne fanno richiesta, senza dover affrontare i viaggi della speranza, cioè sperare che in un altro posto abbiano un farmaco miracoloso che magari li può guarire. Quello che viene fatto qui a Nancone è quello che attualmente si fa in tutto il mondo. Quella che anni fa poteva sembrare una follia, oggi è diventata realtà. Sì, in quegli anni era una follia perché la cura delle enoplasie pediatriche per studi clinici ancora era ai albori, e quindi un pochino era lasciato alla libera iniziativa, ma poi ci siamo strutturati immediatamente a livello nazionale con l'Associazione Italiana di Amatologia e Oncologia Pediatrica, che garantisce a tutti un'uniformità di cura, una qualità di cura elevata. Dottore, come si affrontano malattie così complesse? Allora, per una famiglia è un dramma, è un dramma perché la malattia di un figlio viene vissuta come un fallimento dalla famiglia, soprattutto un fallimento delle aspettative. C'è una disgregazione del nucleo familiare, l'unico argomento è l'assoluto del bambino, i lunghi ricoveri, le separazioni, generalmente la mamma sta in ospedale, il padre sta a casa, il problema dei fratelli che si sentono abbandonati dai genitori. Per il bambino in sé per sé, forse è un'esperienza, almeno per il bambino piccolo, diciamo sotto i dieci anni, è un'esperienza meno drammatica, perché adesso siamo in grado di effettuare cure senza fargli sentire dolore, senza farlo star male, quindi quello che lui percepisce, tutto sommato, è che c'ha sempre la mamma vicino e che chiunque lo viena a trovare c'ha un regalo. Quindi viene vissuta. Diverso è il problema degli adolescenti. Gli adolescenti hanno coscienza di malattia e sono molto difficili da trattare, però abbiamo dei bravi psicologi. Un ambiente migliore, più accogliente, più bello, più colorato fa bene anche agli operatori? Beh, certo, un ambiente sereno, pulito, accogliente fa bene agli operatori, fa bene ai pazienti, fa bene ai familiari, fa bene a tutti. Caporossi, il numero uno dell'azienda, è tornato sul nuovo Salesi, il progetto da 40 milioni di euro che prevede la costruzione del pediatrico al posto della vecchia camera mortuaria dell'ospedale regionale di Torrette. I tempi non li dico perché non basta costruire i muri, ha detto. Grande soddisfazione invece per questo nuovo reparto. Un investimento prima di tutto è utile perché la materia è quella di bambini gravemente malati che si rivolgono a noi da tante regioni italiane e quindi non potevamo ignorare questa questione. Abbiamo preso al volo la cosa e in soli quattro mesi è eseguito tutto questo intervento. Nello stesso tempo un intervento emblematico di quello che pensiamo per il futuro, vale a dire che tutta la fascia adriatica ha bisogno del Salesi, ha bisogno del Salesi come ospedale specializzato pediatrico e quindi al di là del fatto che i muri sono ancora quelli del 1900 dove siamo oggi, il progetto sul quale lanciamo per il futuro una grande speranza è esattamente quella che da noi, sia in questo sito, poi in futuro nel nuovo sito di Torrette quando sarà fatto, da noi ci sarà la possibilità di curare tutti coloro che non possono essere curati in strutture ordinarie sia ospedaliere che domiciliari, ovvero in strutture del territorio. Grazie a tutti!